O glorioso San Francesco, che per tutto il tempo di vostra vita altro non faceste che piangere la passione del Redentore e meditaste di portare nel vostro corpo le stimmate miracolose, ottenetemi di portare anch'io nelle mie membra la mortificazione di Cristo, affinché facendo mia delizia l'esercizio della penitenza, meriti di avere un giorno le consolazioni del cielo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.